Di sigle di cartoni memorabili ve ne sono a bizzeffe, ma una delle mie preferite e più sconosciute purtroppo è senz'altro quella di Prince Valiant. Una serie animata anni 90 di produzione canadesi-americana ispirata ad un celebre fumetto che raccontava le avventure del principe Valiant, il cui cuore, come ci diceva la sigla, sapeva dell'esistenza del regno di Camelot. Che Google Maps ancora non ci stava e bisognava andare ad intuito. Valiant è un giovane principe fuggito dal suo regno dopo che il perfido Resinian mandò un esercito a devastarne la magione perché di lì ci doveva passare la tav e il castello stava in mezzo alle balle. Costretto alla fuga giura vendetta verso il nemico cercando un nuovo scopo nella vita mentre osserva con mestizia la sua casa, ormai ex casa, divenuta un barbecue a cielo aperto. Dopo un burrascoso viaggio in mare il protagonista insieme ai genitori e quei quattro gatti scampati al massacro giungono su di una nuova terra. E una volta lì vengono attaccati da uno strano animale che sbava fortissimo ma che il protagonista riesce senza affanni a sconfiggere utilizzandolo come lancio del peso adoperando la sua cintura. Ed in seguito vengono accolti da dei cosplayer di Conan il Barbaro che anziché ucciderli decidono di essere magnanimi e rilegarli in un'isoletta sperduta in mezzo al niente popolata da strani animali preistorici. Perché non bastava che il luogo in questione fosse in mezzo a delle acque più torbide del naviglio martesana. Qui il ragazzo deve rimboccarsi le maniche e dimenticare i suoi agi per costruire assieme a quel che rimane del suo popolo delle nuove abitazioni segando tronchi con pratici gonnellini bianchi tipici dei carpentieri. Nonostante siano in mezzo al nulla riescono comunque a crearsi un paesino niente male con tanto di tende e letti con candidi cuscini e lenzuola. Caspita, Amazon consegna veramente dappertutto eh! Ma nemmeno il tempo di abituarsi alla vita da campeggio che Valiant inizia a fare degli strani sogni psichedelici dove ode una voce che gli parla di un nuovo ordine della tavola rotonda, di Re Artù e del regno di Camelot. Così il giovane lascia l'isoletta dove erano stati esiliati e parte alla ricerca del regno che ha sognato. Durante il suo viaggio egli incontra quelli che diventeranno i suoi compagni ovvero Arn, un falegname che si vergogna delle sue umili origini e la patatonza di turno, Rowin, figlia di un fabbro ed esperta arcera. I tre fanno subito amicizia e partono alla ricerca di Camelot. Scena in breve. Ehi ciao, io ho sognato di un posto che si chiama Camelot volete venirla a cercare con me? Oh sì certo, è un'idea fantastica tizio che ho appena conosciuto Let's go! Il viaggio ha così inizio, assieme alla crescita interiore del protagonista da prima un pocafone che pian piano imparerà i valori del rispetto e della responsabilità dopo varie avventure e dopo essersi arrampicati su una parete a picco a mani nude che nemmeno Tom Cruise in Mission Impossible i tre trovano finalmente la mitica Camelot qui conoscono Re Artù e Mago Merlino e danno finalmente prova del loro valore ma ecco che veniamo a sapere della crescente minaccia a Camelot di quel disgraziato di Sinian però dato che il protagonista ha dimostrato a tutti quanto può essere cazzuto gli viene dato il permesso di condurre un piccolo esercito al suo paese natio qui sconfigge finalmente il nemico e dopo aver ridato casa ai suoi genitori a quel che rimaneva del suo popolo li saluta per sempre per far ritorno a Camelot e diventare un cavaliere della tavola rotonda assieme ai due suoi compagni nella seconda parte della storia arriva invece la minaccia di Mordred che si vuole contrapporre ad Artù con lo slogan Prima i Camelotiani e a basso l'invasione vichinga nel frattempo Valiant è diventato uno dei cavalieri più forti della tavola rotonda così come Arn e Rowan e tra i tre sembra esserci una sorta di triangolo amoroso almeno finché Valiant non si inciucia con Altea la guerra si fa sempre più tremenda finché Artù non perisce e la regina Ginevra proclama Valiant suo successore per fortuna egli riesce a sconfiggere Mordred e scopriamo che Artù non è morto poiché torna in vita la sua di partita era infatti una mera strategia in quanto vediamo Merlino che lo fa resuscitare rifinandogli una strana sbobba Camelot è così salva almeno finché non arriverà l'ancillotto a scasinare tutto con pacchi di corna grossi come il Molise e come Valiant era certo esistesse il regno di Camelot anche Indy è sicuro nel suo cuore che quando mi distrarrò giocherà immantinente coi pompon dei miei nuovi stivaletti lo conosco lo conosco troppo bene grazie a tutti